Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La riunione di ieri sera in programma presso la sede sociale di Via Delfico è finita dopo le 22 e la SS di Città di Teramo ha definito l'assetto societario. E' stato ufficializzato l'ingresso di 6 soci a supporto del presidente Filippo Di Antonio che ha acquistato il 60% delle quote della società. Entrano nel sodalizio biancorosso l'imprenditore Enrico Valeriani, Marco D'Alfonso, Alfonso De Berardis, Romolo De Baptisis e Mauro Merlini. Assente per impegni di lavoro l'imprenditore Daniele De Remigis, anche lui pare a giorni entrerebbe a far parte della società. Il nuovo assetto societario sarà ufficializzato con atto notarile nella giornata di venerdì. Sotto l'aspetto tecnico il DS Paolo D'Ercole sta continuando a lavorare per allestire una squadra forte e competitiva. Nel frattempo ieri la SS di Città di Teramo ha annunciato di aver trovato l'accordo per il prossimo campionato di eccellenza con il giovane centrocampista Lino Damiani, classe 2005, nativo di Penne, il quale dopo aver iniziato il percorso giovanile nella Valle del Vomano fino ai giovanissimi ha militato nell'Under 17 del Teramo guidata da mister Cervino, prima di imporsi nell'ultima stagione nel Castelnuovo Vomano, disputando 32 partite con l'aggiunta di tre marcature e mostrando dinamismo, tecnica e capacità di inserimento in zona goal. Le sue prime dichiarazioni, la chiacchierata con la società ha generato in me ulteriore entusiasmo di sposare il progetto Teramo, dice il centrocampista, ho iniziato il mio percorso calcistico nel ruolo di metodista. In seguito è stato mister Cervino, nelle giovanili del Teramo, ad alternarmi come mezzala, ma posso essere impiegato in entrambi i ruoli e a Castelnuovo ho giocato sia in una mediana a due che a tre. Tornare qui rappresenta un grande onore, vista l'importanza e la storia della piazza. Vista la mia giovane età, continuo a Damiani, cercherò di apprendere dai più grandi, con l'obiettivo di mettermi a disposizione dello staff tecnico e di raggiungere gli obiettivi societari.